Resta, non ne so, 100.000 euro non gli do più, non lo ringraziamo, grazie, 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 grazie. E poi ovviamente il comune di Carugate, che ci ha fatto su una reguare, insieme all'oratorio, all'oratorio, insomma, grazie a tutte quelle persone che hanno partecipato, che hanno montato, che hanno ripreso, che hanno fotografato, che hanno fatto i panini, le bibite, che si sono baciati, tutti e tutti, quelli che hanno giocato, quelli che non ci hanno ascoltato, tutti quanti. Grazie, grazie, ma soprattutto, grazie a voi, perché veramente, senza di voi non c'è il concerto, il concerto lo fate voi, non voi qua sopra, grazie di cuore, siete eccezionali, davvero, grazie per le risposte che ci date ogni volta che andiamo a suonare con noi, insomma, lo dico sempre, se sicuramente ci fosse noi, potremmo starcene anche a casa in taverna a suonare, non sarebbe sicuramente la stessa cosa, quindi, veramente, siete meravigliosi. Ringrazio il nostro fonico, il sesto modà, Paolo John Bolli! Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. E poi, ah sì, poi dopo questa canzone c'è una sorpresa che dopo ve la dico, dopo ve la dico, ve la dico dopo, ve la dico dopo. Per tutti i giovani ragazzi, stasera c'è un personaggio, mamma mia, altro che, altro che. Per ora, vi salutiamo con quest'ultima canzone. Per ora, vi salutiamo con quest'ultima canzone.